Declinazione dell'aggettivo 1, aggettivi della prima classe, 2, aggettivi della seconda classe 2, aggettivi della seconda classe e gli aggettivi della seconda classe si suddividono a seconda della terminazione del nominativo singolare, in, aggettivi a tre uscite, una per il maschile, una per il femminile, una per il neutro, esempio acer, acris, acre, acuto aggettivi a due uscite, una per maschile e femminile, una per il neutro, es dulcis, dulce, dolce aggettivi ad una sola uscita, comune al maschile, al femminile e al neutro, esempio audax, audace, tutte e tre i gruppi sono accomunati dall'uscita all'ablativo singolare ni, al genitivo singolare ni, al nominativo, accusativo, vocativo plurale in, ia, aggettivi a tre uscite esempio acer, acris, acre, acuto singolare e plurale masch, fem, neutro masch, fem, neutro nom, acer acer, s acre, acer, acer, s acre, s acre, ia gen, acer, s acre, s acre, s acre, s acre, s acre, s acre, m acre, m acre, m acre, m det, acer, 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 bus acer, bus acer, bus acer, bus accusativo acer, m acre, m acre, acer, s acre, s acre, s acre, acer, acer, s-acer, s-acer, i-a-b-l, acer, 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 bus acer, bus acer, bus adgettivi a due uscites, dulcis, dulce, dulce singolare plurale mask, fem, neutro mask, fem, neutro nom, dulc, s-dulc, dulc, s-dulc, i-agen, dulc, s-dulc, s-dulc, m-dulc, m-dativo dulc, 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 bus acer, bus ac, dulc, m-dulc, dulc, s-dulc, i-avocativo dulc, s-dulc, s-dulc, i-ablativo dulc, 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 bus dulc, bus adgettivi a due uscites, audax, audace, singolare plurale mask, fem, neutro mask, fem, neutro nom, audax, audax, saudac, s-audac, s-audac, i-agen, audac, s-audac, s-audac, m-audac, em-edativa audac, 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 bus saudac, bus ac, audac, m-audac, s-audac, i-avocativa audac, saudac, s-audac, s-audac, i-abl, audac, 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 bus audac, bus osservazioni, alcuni aggettivi ad una sola uscita si scostano dalla normale declinazione, hanno l'ablativo singolare in e, il genitivo plurale in um, mancano del nominativo, accusativo, vocativo neutro plurale, alcuni sono, pauper, pauperis povero pauper e pauperum princeps, principis primo principe e principum particeps, participis partecipe, participe e participum da is, divitis ricco divite e divitum vetus, veteris vecchio vetere e veterum alcuni aggettivi hanno l'uscita regolarmente in e all'ablativo, ma il genitivo plurale in um memor, memoris memore memori memorum in memor, in memoris in memore, in memorim memorum in obs, in opis bisognoso in opinopum supplex, supplicis supplici supplici supplicum vigil, vigilis vigile, vigili Vigilum